L'economia oggi viene definita da voi duale, perché? È duale perché l'economia è presente a due velocità. Una velocità connessa alla grande impresa, da un lato è la piccola impresa che viceversa non corre e dall'altro lato al fatto che un settore, quello industriale, riesce a produrre e riesce anche a stimolare l'occupazione mentre abbiamo dall'altro lato il terziario che è legato alla piccola impresa, è legato al mercato interno che viceversa registra una perdita occupazionale e questo dato è riferito esattamente al primo trimestre del 2016. Quindi noi abbiamo un prodotto interno lordo che recentemente, come ha stabilito la Svimez, è aumentato del 2,5% e dall'altro lato, viceversa, come dicevo, abbiamo una zona complessiva occupazionale che non è assolutamente una situazione stimolante. Quali sono le proposte della CIS? Con la regione abbiamo firmato un patto per lo sviluppo, in precedenza era stato firmato il masterplan. Prevedono 109 interventi su progetti che hanno scadenze e risorse già stanziate, una parte quella nazionale, una parte le risorse europee e regionali. Se riusciamo a realizzare nei due anni previsti, 2016-2017, i 109 progetti che sono infrastrutturali e riguardano l'economia e prevedono interventi per 630 milioni, noi riusciremo di euro, noi riusciremo a dare quell'impulso alla nostra regione che ha assolutamente bisogno di darsi una scossa. E questo secondo noi può essere la scommessa e se riusciamo a realizzare, se la struttura regionale, la macchina regionale è in grado, noi vigileremo. Saremo molto attenti perché su questo abbiamo scommesso parte della nostra credibilità importante. Grazie. Grazie.